Il suono delle sirene ha svegliato il piccolo paese di Tagliacozzo. All'alba di questa mattina infatti sono scattate le manette per il sindaco, l'assessore con delega alla cultura, il responsabile dell'ufficio tecnico e un architetto per tentata concussione, turbata libertà degli incanti d'asta e frode nelle pubbliche forniture. Il sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, è stato portato in carcere, mentre agli arresti domiciliari sono finiti l'assessore Gabriele Venturini, il funzionario comunale Giampaolo Torrelli e l'architetto Carlo Tellone. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare è stata la compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo. Le indagini riguardano il periodo tra l'estate 2011 e il 2015. Le contestazioni riguardano incarichi di progettazione manipolati per favorire sempre le stesse persone. Nello specifico i professionisti ricevevano l'appalto con incarichi diretti per somme che andavano dal migliaio ad un massimo di 40.000 euro. Spesso gli incarichi erano eseguiti tramite una procedura d'urgenza per derogare alla prassi. Ci sono stati degli episodi singoli che sono stati singolarmente vagliati, quindi non abbiamo appurato l'esistenza di una vera e propria organizzazione finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati, ma si tratta di singoli episodi che riguardano affidamenti di incarichi. Come siete arrivati a delineare queste accuse? L'indagine ha avuto inizio con un esposto. Dopodiché sono stati fatti degli accertamenti, tra cui anche delle acquisizioni documentali, in particolare nei mesi di ottobre e dicembre 2015, all'interno del comune di Tagliacozzo. Quindi sono stati acquisiti dei documenti che riguardavano queste procedure di affidamento degli incarichi. E poi c'è stata una parte tecnica con intercettazioni di conversazioni telefoniche e tra presenti, quindi con le cosiddette intercettazioni ambientali. Il quadro probatorio raccolto ha confermato quanto riferito nell'esposto iniziale e quindi di conseguenza il giudice si è convinto dell'ipotesi accusatoria e ha emesso i provvedimenti restrittivi. Durante l'indagine sembra che ci siano state pressioni per intervenire sull'operato dei carabinieri. È emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali che alcuni degli indagati hanno tentato di intervenire per bloccare l'indagine, in modo particolare paventando la possibilità di rivolgersi a persone influenti che potessero conoscere altre persone in grado di intervenire nei confronti degli organi inquirenti. Intanto continuano le indagini sull'incendio delle tre autovetture del sindaco di Tagliacozzo, avvenuto nel mese di febbraio. Non si esclude la possibile origine dolosa del fuoco e l'eventuale collegamento con il sistema di appalti manipolato. Il 30 marzo del 2009 è l'inizio della mistificazione mediatica. Una telefonata tra l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso e l'allora assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati. Una strage, il terremoto del 6 aprile, senza colpevoli e senza verità. Così ieri l'Aquila, con 500 persone a rappresentarla e Vincenzo Vittorini in testa, si è dato appuntamento per l'iniziativa a tutti i convocati per una giustizia italiana che non dimentichi la strage del 6 aprile. Nella famosa telefonata Bertolaso parlava di operazione mediatica per rassicurare la gente. Il giorno dopo fu riunita la Commissione Grandi Rischi. Poi, quello che tutta Italia e anche il mondo intero conosce, 309 morti. Significa che oggi, che è il giorno in cui è iniziato tutto, sette anni fa, dopo la scossa del primo pomeriggio, inizia tutto, inizia l'operazione mediatica che ha portato a morte per omicidio 309 persone. Oggi è arrivato il momento di far sentire la voce non soltanto di noi familiari, non soltanto delle persone che non ci sono più, che parlano attraverso noi. È importante a sette anni far sentire la voce di un'intera comunità che, se vuole ancora la verità, è arrivato il momento di esigerla. Perché? Perché fra pochi mesi si arriverà la prescrizione e di conseguenza calerà l'oblio sull'ennesima strage italiana di cui non si saprà la verità vera. Questa è una cosa che finora abbiamo chiesto noi, in pochi. Però se stasera, se da questa sera lo chiede un'intera città, probabilmente ci si arriverà. Ieri sono state proiettate le immagini dei funerali di Stato del 10 aprile. I parenti delle vittime hanno indossato delle maglie con la scritta Rassicurato, avevo 16 anni e così via con l'età delle varie vittime. Un modo per esserci, per ricordare e non dimenticare, che però dovrebbe coinvolgere tutti gli aquilani, la città intera, la città che non si arrende. E invece spiace constatare che sono sempre gli stessi a battersi affinché sulla strage aquilana, a sette anni della disgrazia, sia fatta piena luce. Oggi è anche l'occasione per spiegare, perché, come ho detto ad altri, noi dentro il processo di grandi rischi e dentro il processo di Bertolaso conosciamo ogni carta, ogni sillaba, ogni parola. Forse la città ne conosce molto di meno, l'Italia ne conosce molto di meno. Uno sciopero previsto per il 12 aprile. A farlo saranno i dipendenti della Olicar, dei presidi ospedalieri dell'Aquila, Vezzano Sulmona e Castel di Sangro. Ad annunciarlo sono stati sindacati. Neanche l'impegno assunto in prefettura il 15 marzo scorso, finalizzato a regolarizzare l'erogazione degli stipendi entro il 25 marzo, scrivono i sindacati in una nota congiunta, è stato onorato dall'azienda Olicar. La Olicar, lo ricordiamo, è l'azienda SPA, che nel gennaio 2013 è subentrata nei servizi di manutenzione di tutti i presidi ospedalieri della provincia dell'Aquila, imponendo ai lavoratori, unit lateralmente, il contratto dei multiservizi, al posto di quello precedente dei metalmeccanici, che, come si sa, economicamente era molto più vantaggioso. Da tre anni, dunque, impiega circa 100 lovaratori, ma, da più di un anno e mezzo, sottolineano le organizzazioni, li fa penare ogni volta che li deve pagare. Le mancate risposte della Olicar e le mancate prese di posizione della direzione della ASD, scrivono ancora, hanno pertanto portato i sindacati e le RSA a proclamare una giornata di sciopero in programma il 12 aprile e contestuale blocco degli straordinari e dei cambi turni su personale in ferie, fino a nuova comunicazione sindacale. La giornata di sciopero inizierà alle 6 del giorno 12 e terminerà alle 6 del 13 per i turnisti. I giornalieri, invece, si asterranno dalle 8 alle ore 17 del 12. Saranno garantiti i servizi essenziali ai cittadini, come da previsione di legge. La Olicar sostengono i sindacati a in gravi difficoltà finanziarie e non è un caso che da tempo è in trattativa con un'altra società per essere venduta, ma i lavoratori perché devono pagare il costo della crisi finanziaria, anzi del dissesto aziendale dopo aver subito anche le decurtazioni dei salari per il cambio del contratto? Bisogna ricordare inoltre, concludono i sindacati, che ci sono alcuni nodi sulla sicurezza dei lavoratori, che la Olicar non ha mai risolto. Alcuni lavori dentro gli ospedali vengono svolti senza il rispetto del decreto legislativo 81 del 2008. Ma è possibile? Si, scrivono ancora alla Olicar, succede anche questo. Negli ultimi 18 mesi, per ben 4 volte, i sindacati e le RSA sono stati costretti a ricorrere alla prefettura dell'Aquila e in altrettanti incontri, la Olicar si è impegnata a regolarizzare ogni stortura denunciata, ma sebbene la prefettura stessa avesse richiamato all'ordine la Olicar attraverso la sottoscrizione di puntuali verbali, la società sistematicamente ha disatteso gli impegni, vanificando anche l'accordo ultimo che la Confindustria ha sottoscritto in sede prefettizia, in nome e per conto della Olicar, sul pagamento delle retribuzioni del mese di febbraio entro il 25 marzo. È in gravi condizioni l'operaio di 47 anni rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale a Cagnano Amiterno, comune dell'Aquilano. Un frontale che ha coinvolto due vetture, una Ford Mondeo e una Fiat Panda. L'impatto tra le due automobili è avvenuto nella frazione di San Pelino. Ad avere la peggio è stato l'artigiano romeno alla guida dell'Amondeo. L'uomo è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico nel nosocomio aquilano e resta in prognosi riservata. Anche l'altro coinvolto è rimasto ferito, ma in maniera lieve. Al termine degli accertamenti che sono stati condotti dai carabinieri dell'Aquila, uno dei due uomini è stato anche denunciato per lesioni personali, dato che era alla guida in stato di alterazione psicofisica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il frontale è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Inaugurato oggi il parcheggio da 100 posti per il Tribunale dell'Aquila, costato circa 200.000 euro. Un primo passaggio, come spiega l'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri, per risolvere i problemi di viabilità in quell'area notevole negli ultimi tempi, vista la vicinanza con Villa Gioia, sede del Consiglio Comunale. Oggi abbiamo inaugurato questo parcheggio del Tribunale, che è una cosa molto importante, peraltro in tempi previsti, quindi siamo una delle poche cose che si decide di fare in un certo tempo e si conclude nel tempo previsto, quindi questa è già una grandissima soddisfazione. Sono 100 posti auto, peraltro illuminato, insomma, video sorvegliato, c'è una parte che è anche video sorvegliato, quindi insomma anche in sicurezza, e che si vanno a sommare agli altri posti che sono 50-60 che già insistono su quella piazza. Quindi io credo che il Tribunale, sotto questo profilo, possa trarre un sospiro di sollievo. Entro la fine dell'anno, poi, sarà pronto un ulteriore parcheggio antistante al Tribunale, con due piani sotterranei e uno a raso, che sarà a disposizione di giudici, avvocati e amministrativi, un'opera che attende la luce da dieci anni. Il problema è che la zona, purtroppo, è una zona un po' difficoltosa sotto questo profilo, quindi è ovvio che noi, per quanto possibile, andremo a migliorare quella che è la viabilità. Io credo che la soluzione definitiva si porrà avere soltanto quando noi realizzeremo, nei prossimi mesi, anche il parcheggio antistante al Tribunale, che è previsto per i dipendenti e per i magistrati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS